Era impegnato a caricare sabbia e pietrisco sul muletto. All'improvviso il mezzo elevatore si è ribaltato, travolgendolo in pieno senza lasciargli scampo. Così ha perso la vita un operaio di Canigattì, Angelo Giardina, una giovane vita spezzata, soli 21 anni. Il gravissimo e tragico incidente sul lavoro si è verificato all'interno di un'azienda che produce e commercializza manufatti in calcestruzzo lungo la via Vittorio Emanuele nella periferia nord di Canigattì. Cosa non ha funzionato l'accerterà un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Agrigento che chiarirà la dinamica e la responsabilità. Il fascicolo attualmente a carico di ignoti per l'ipotesi d'omicidio colposo ci sarebbero due indagati. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che stanno effettuando i dovuti accertamenti per verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, soprattutto il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione da parte dell'operaio, la posizione lavorativa della vittima e la validità dei documenti e dei permessi aziendali. L'intera area è stata sottoposta a sequestro. Il 21enne, secondo la prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato dal muletto durante una manovra. Il carrello elevatore, verosimilmente per una errata modalità di carico dei materiali, si è inclinato fino a crollare sul giovane lavoratore. Il prima da correre i titolari ed alcuni colleghi di lavoro, l'operaio era riverso a terra sotto al muletto. Immediato è scattato l'allarme. Su posto sono intervenuti i vigi e fuoco, le ambulanze del 118 e l'elisoccorso. Quando sono arrivati i primi soccorritori si sono trovati davanti a scene di autentica disperazione, ma il personale medico ha potuto constatare soltanto l'avvenuto decesso. Troppo gravi traumi riportati. Le indagini dei carabinieri ovviamente sono concentrate ad appurare l'esatta dinamica dell'incidente contestualmente al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. Accertamenti che saranno eseguiti da persone dell'ispettorato del lavoro e dell'azienda sanitaria provinciale. Al vaglio anche i sistemi di videosorveglianza dell'azienda. I funerali di Angelo Giardina si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16 nella chiesa Maria Ausiliatrice a Canigatti. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino attraverso un'ordinanza. Anche la nostra comunità purtroppo piange una morte bianca, dice amareggiato il sindaco Vincenzo Corbo, profondamente colpito da questa tragedia. Saranno esposte le bandiere a mezz'asta nel palazzo di città, saranno sospese le manifestazioni pubbliche eventualmente previste e fino alla conclusione delle eseque. Infine il sindaco invita la comunità a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune. Grazie.